Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie. Intanto questa notte è come di consueto la chiusura dei sottopassi per operazioni di pulizia meccanizzata. 23.30, 1.30, chiude il sottopasso Repubblica, Portapalazzo 2.30, 4.30, chiude il sottopasso Lanza, ricorso Massimo d'Azeglio. Continua la chiusura, ricorso Sacco e Vanzetti, tracorso Regina Margherita e strada antica di Collegno in attesa delle verifiche strutturali del viadotto. Veniamo alle notizie di domani, ancora domani al centro congressi dell'Ingotto, il ventesimo congresso nazionale CGL, Federazione Pensionati Italiani. Domani l'appuntamento è con la Polizia Municipale, truffe agli anziani, consigli per la sicurezza. Incontro con la Polizia Municipale Torino dalle 15.30 alle 16.30 presso la parrocchia Michele Arcangelo, ricorso Vercelli 396, l'ingresso è libero. Sino a domani le linee 17.38 subiscono deviazioni di percorso in grugliasco. È tutto, buona serata, buon viaggio.